E quindi abbiamo, grazie, quindi responsabile economia e marketing della cultura, Sergio Garzio, che è stato attenzione alla cultura della città di Como per dieci anni e che è un infaticabile, non solo gestore, ma organizzatore di mostre. Sul lago di Como ha organizzato mostre per una serie infinita di artisti e io quando mi annunciava che aveva cominciato a lavorare a una mostra dell'artista famoso gli domandavo sempre ma come farai ad avere quei capolavori? Lui è capace di andare, litiga con i vari vittori, con i privati e alla fine si porta a casa tutti i capolavori che ha anticipato nella presentazione della mostra. Quindi un'ira di Dio.